Oggi è 5 di luglio, mi trovo con tutta la famiglia oranina nella casa provinciale che si trova a Bonois. Ieri sono stato ordinato vescovo e oggi sono con la famiglia oranina. Vorrei prendere questa opportunità per ringraziare tutti voi. Prima di tutto vi saluto nel nome del Signore e che Dio vi benedica e vi assiste sia con voi. Vorrei ringraziare tutti voi per la preghiera, per il sostegno e per la comunione che è sentita. E da qui dico che siamo uniti nella preghiera, nel servizio dei nostri confratelli e nella comunione con tutta la famiglia oranina. Che la mia preghiera e la mia benedizione vi giunga dove siete.